Può sembrare una questione antica, magari forse anche di solo principio, e invece no. È una questione di immediata attualità ed è una questione di peso politico. Parlo degli italiani condannati per reati legati al terrorismo che sono stati arrestati in Francia e nei confronti dei quali si avvia una procedura di estradizione. In Francia, fino a questo momento, quelli hanno vissuto non in clandestinità, non nascondendosi, ma semplicemente protetti da quella che si chiama, o forse si chiamava a questo punto, la dottrina Mitterrandi, che si tratta, vediamolo molto brevemente, perché invece non è una questione antica, è una questione attualissima. Si tratta degli anni del terrorismo, il terrorismo c'era in Italia, ma non c'era solamente in Italia, in Italia avevamo diverse formazioni terroristiche di sinistra, poi ne avevamo anche di terrorismo di destra fascista, ma è un'altra faccenda che non si beva a mescolare. C'era in Germania una presenza molto importante della Rota, la mefraxion, una componente, una frazione dell'armata rossa, così si chiamava, e c'era in Francia, con action directe. Però in Francia, diciamo così, si sono contenute le attività del terrorismo rosso e si sono riusciti a non espandere, non diventare patologiche, come era successo del resto, perché in Germania e in Italia le due potenze sconfitte della Seconda Guerra Mondiale e la Germania divisa in due, l'Italia con presenza di servizi segreti stranieri di ogni tipo, con alle spalle un pezzo di guerra civile irrisolta, eccetera, eccetera. In quegli anni il mondo politico, intuendo quella che una donna della sinistra, Rossana Rossanda, chiamò l'album di famiglia del terrorismo rosso, che si legava all'album di famiglia della componente comunista, invece totalmente costituzionalizzata, legale, presente in Parlamento, diede una specie di delega alla magistratura, diceva, provvedete voi, e si elaborarono alcuni reati, come ad esempio banda armata, che servì a perseguire quelli che avevano le armi, e non c'è dubbio che commettessero un reato, ma anche i loro compagni che si associavano e che magari non avevano commesso invece direttamente qualche reato, cosa che di dubbio ne sollevava più d'uno, e in Francia era nata questa cosa che in Italia la giustizia fosse troppo repressiva, semmai ai noi era l'esatto contrario, che avesse un segno politico, eccetera, eccetera. E quindi Mitterrand disse all'epoca, presidente francese, che terra di Francia può essere terra di asilo a condizione che le persone non abbiano commesso reati di sangue. La gran parte di quelli che stavano lì hanno commesso reati di sangue. Poi dopo quella già corruzione della dottrina Mitterrand, diciamo che non c'era interesse da nessuno dei due paesi, né l'Italia né la Francia, di sollevare la questione. L'Italia perché non voleva restituire queste persone e riaprire la piaga della discussione, ma sono terroristi o sono persone, o sono compagni che sbagliano, facevano politica o facevano invece semplicemente delinquenza, come era il caso per esempio di Battisti, Cesare Battisti, e dalla Francia non c'avevano voglia di mettere in discussione appunto la dottrina Mitterrand, a fondo si poteva accampare così, e invece adesso tornano. Tornano su decisione francese, ed è questo il punto. È un punto politico. I rapporti con l'Italia devono considerare l'Italia un paese che se fa una richiesta bisogna rispondere seriamente. Intendiamoci, il processo di estradizione deve ancora essere discusso e non è escluso che alcune di quelle pene, non reati, perché l'Italia è un paese bislacco. Abbiamo cancellato la prescrizione per gli innocenti, ed è rimasta la prescrizione per i colpevoli, perché anche le pene vanno in prescrizione, naturalmente non l'ergastolo, ma è un segno di maggiore peso politico dell'Italia in Europa oggi e naturalmente dell'irrilevanza politica dell'avere indietro queste persone, perché sono solamente criminali che arrivano troppo tardi nella loro vita alla galera, ma che la galera se la meritarono per i reati commessi, per l'arroganza con la quale hanno accompagnato questi loro anni e per il disprezzo, sì, anche per il disprezzo che hanno riversato sull'Italia e sul nostro diritto. Quindi è una buona pagina e attenzione, non è una pagina del passato, è una pagina del presente.